Il caso Cpl Concordia, l'inchiesta sugli appalti ha avuto un effetto domino che ha portato prima al commissariamento della cooperativa e poi al ricorso agli ammortizzatori sociali per i dipendenti, ora i sindacati premono per un nuovo piano industriale. Sono almeno 500 su 1.250 i lavoratori di Cpl Concordia per i quali si è reso necessario il ricorso agli ammortizzatori sociali dopo l'inchiesta sugli appalti e il successivo commissariamento della cooperativa. I sindacati premono per un nuovo piano industriale, in assemblea hanno illustrato l'intesa raggiunta al Ministero del Lavoro sulla Cassa Integrazione Straordinaria per i 300 dipendenti delle aree non sottoposte ad interdittive antimafia. I lavoratori hanno apprezzato il modello di ammortizzatori che abbiamo deciso di mettere in campo e però serve, e questo è uscito fuori forte dall'assemblea, un piano industriale che faccia capire qual è la direzione che vuole prendere questa cooperativa nei prossimi anni. Perché è vero che oggi facciamo un'operazione difensiva ma penso che noi abbiamo bisogno anche di un rilancio, il rilancio passa necessariamente da un piano industriale credibile che provi a dare garanzia e certezza a tutti i lavoratori di CPL. Per i dipendenti dei settori colpiti da interdittiva sarà necessario modificare la normativa sugli ammortizzatori sociali. Stiamo attendendo anche noi un decreto ministeriale, questo decreto ministeriale ci è stato detto che a settembre doveva arrivare e questo è molto importante perché darà risposta anche con i lavoratori che oggi sono scoperti da ammortizzatore sociale.